Ha bisogno di sostegno, perde palla, parte Liezzon Punto verso l'area avversaria, di fronte a Siedenelli, le fitte di Liezzon Scarica su Miguel Veloso, la palla è sul sinistro, parte il tiro, a rete! Gran gol di Veloso! Nella gestione della palla è mancata Stoppa bene, ha la possibilità di mirare, questo è un grandissimo gol Gran gol di Veloso Lo Sporting in 8 minuti ribalta il risultato, ma quello che fa male Visto dalla parte della Fiorentina è che il 2-1 è arrivato con la Fiorentina in superiorità numerica E adesso la Fiorentina deve tirare fuori quel carattere che in questo secondo tempo si è visto davvero poco 11 contro 10